Anna Fasol, il mistero è sempre più fitto, sparita, inghiottita nel nulla. Dallo scorso 30 luglio della ragioniera 59enne di Cittadella non si hanno più notizie. Le ricerche da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco continueranno fino a domani nella zona della stazione e poi intorno alla sua abitazione e all'azienda per cui lavorava. Le autorità sono impegnate per far luce sulla sparizione. La prefettura, la procura, le forze dell'ordine stanno lavorando a 360 gradi, nessuna pista esclusa, anche se l'ipotesi dell'allontanamento volontario sembra ancora la più probabile. Sono tanti i lati oscuri di questa vicenda, a partire da quei 100.000 euro spariti dalle casse dell'azienda dove Anna Fasol era impiegata. I vigili del fuoco hanno perlustrato i luoghi, i RIS hanno perquisito la casa, passato a setaccio ogni stanza, ma nulla e il mistero di Anna rimane.